Però non è un'isola, quando poi torna a casa bisogna fare il tampone a lui, ai genitori, a tutti quelli che hanno avuto i contatti e si finisce tutti in quarantena perché i tamponi non è facile farli. Allora qui bisogna distinguere, io ho chiesto come Ministro dell'Istruzione e penso che si stia andando in questa direzione per fare test rapidi, noi dobbiamo liberare le famiglie dalle quarantene, agire con più celerità e questo lavorando insieme alle ASL, alle regioni, si farà, si sta andando in questa direzione qui celerità, velocità, perché non possiamo per un raffreddore o per un'influenza bloccare delle classi. I test rapidi in questo possono servire.